Un tappo di sughero, che rispetta il lavoro del produttore, adatto a tempi di conservazione diversi e perfettamente omogeneo, garantito senza gusto di tappo e che preserva gli aromi. Ecco Diam e Mythique Diam, il sughero reinventato, per beneficiare di tutti i vantaggi del sughero senza inconvenienti. Diam è in sughero, un materiale nobile molto apprezzato dai consumatori, associato a vini di qualità prodotti secondo la tradizione. Dopo la sua bollitura, il sughero viene tritato per conservarne le parti più nobili, ricche di suberina contenuta nel fiore di sughero. Interviene a questo punto la tecnologia Diamant, un procedimento rivoluzionario di disraumatizzazione che penetra nel cuore della materia. In condizioni specifiche di temperatura e di pressione, l'anidride carbonica raggiunge uno stato intermedio tra liquido e gassoso. Questo stato, chiamato supercritico, permette di estrarre dal cuore del sughero le molecole responsabili delle deviazioni sensoriali ed in particolare quelle responsabili del gusto di tappo. I tappi Diam e Mitic Diam diventano partners nei grandi vini, consentono loro di conservare una freschezza ed una purezza sensoriale uniche, di preservare tutto il frutto del vino al fine di rivelare la migliore espressione aromatica anche dopo un lungo invecchiamento. I tappi Diam e Mitic Diam sono composti di farina di sughero purificata, di un legante idoneo al contatto alimentare e di microsfere. Il procedimento permette di ottenere delle eccellenti performance meccaniche, offrendo inoltre una gamma di permeabilità corrispondenti alle esigenze di ogni vino. Scegliendo Diam, il produttore può controllare la costanza degli scambi di ossigeno durante la permanenza del vino in bottiglia e trovare il tappo più adatto all'evoluzione del suo vino. Diam è una gamma completa per tutti i tipi di vini, Diam per vini tranquilli, Mitic Diam per champagne e vini spumanti ed anche Alt Top per superalcolici o per liquori. Le caratteristiche tecniche omogenee dei tappi permettono un passaggio regolare sulla linea di imbottigliamento, evitano presenza di polvere e di particelle sospese ed anche collature e capillarità. La stessa omogeneità si ritrova nelle caratteristiche organolettiche, identiche in tutte le bottiglie della stessa partita e stabili nel tempo. Scegliere Diam significa offrire al consumatore la garanzia di gustare il frutto inalterato del lavoro del produttore, bottiglia dopo bottiglia, annata dopo annata. Diam è il guardiano degli aromi, con un miliardo di tappi venduti oggi nel mondo ed altrettante bottiglie protette dal sughero reinventato. Grazie per la visione!